L'archivio è dappertutto, l'archivio è pervasivo, tutto dove c'è un'attività umana, là c'è un archivio. Ci fanno sentire la voce degli archivi, ci fanno capire che gli archivi sono polifonici, che ci raccontano le storie minute come le storie dei grandi. Che cosa ci dicono ancora? Ci dicono che gli archivi sono di tutti. Ovunque c'è un archivio, là in qualche modo si tutelano i diritti di tutti. Anche chi non entrerà mai in un archivio, dal fatto che esiste un archivio ben ordinato, trova una tutela dei propri diritti. Ci dicono ancora una cosa, che gli archivi sono fragili, che il documento perso lo perdi per sempre. Il libro ci possono essere più copie, del documento c'è spesso soltanto una copia. Ci dicono ancora che i documenti sono qualsiasi cosa che documenta un fatto. Gli archivi sono carta, ma gli archivi sono foto, gli archivi sono cinema, gli archivi sono video, gli archivi sono storie di famiglia, gli archivi sono carteggi, gli archivi sono documenti poveri, come i documenti ricchi, gli archivi sono oggetti, gli archivi sono i paesaggi che ci circondano. Tutto questo ci racconta in qualche modo l'esperienza di Mediacore. E quindi non c'è che da sostenerla ed augurargli, dopo questi primi cinque anni, una lunga vita e lunga attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti